Ciao a tutti ragazzi, come state? Allora, oggi video tag e volevo fare un video sulle 100 domande e è un video molto carino e poi rilassante e anche per farvi sapere qualcos'altro su di me, diciamo e nel mentre però volevo assaggiare questa specie di leccarecca a forma di callo l'ha scritto Disney e poi l'ha scritto in russo e in pratica mio cognato è andato all'Expo a Milano e mi ha portato delle cosine tra cui anche questa specie di leccarecca ha detto che ha gusto orzo e quindi lo volevo provare con voi allora vediamo se lo riusciamo ad aprire vi volevo dire che è rotta la testa se ci fate caso però è buono assaggiamo solo questo è strano sa tipo di orzo non lo so sa di orzo di grano di grano ecco di grano era un orzo vabbè comunque allora prima domanda dormi con le porte dell'armadio aperte o chiuse chiuse anche perché aperte mi darebbe fastidio però è buono lui ha detto che era brutto e misera dormi dentro o fuori le lenzuola dalle lenzuola dentro sempre dentro anche in anche in estate mi da proprio fastidio non dormire sotto il lenzuolo hai mai rubato un cartello stradale no anche perché non so cosa farmene dei cartelli stradali ti piace usare post-it si mi piace anche se cioè allora io ho un sacco di post-it però ho un sacco di post-it di tutte le forme però non è che li uso poi così tanto cioè se li ho dentro una parte ma non li uso quasi mai mi dimentico di averli ecco hai mai tagliato i coupon per poi non usarli no mai anche perché cioè qui non è che ci stanno i coupon sono cose più americane cioè che io sappia non ci sono qui almeno da me poi è mai tagliato preferisci essere attaccato da un urso o da uno sciame d'api sicuramente senza ombra di dubbio da un urso perché le ape proprio mi fanno super paura hai le lenticini no non ho lenticini però no non sono lenticini però a volte in inverno cioè in estate mi escono dei piccoli nei qui poi mi avvicino di più perché forse non si sente tanto bene un povero callo non ha la testa poi sorridi sempre nelle foto ma che cosa ho qui una pellicina si sorrido però dipende cioè non sorrido proprio con la bocca così spalancata però comunque si non è che sto sempre seria poi qual è il tuo più grande crucio grande crucio sarebbe tipo un difetto penso comunque il mio più grande crucio vediamo non lo so forse sono molto pessimista e mi butto facilmente giù poi diciamo che si sono molto pessimista e questo mi porta mi lamento solo e ripeto sempre le cose continuazione poi e poi poi ti è mai capitato di contare i passi mentre cammini no i passi no però mi è capitato di contare le mattonelle cioè nel senso no contare le mattonelle cioè di sì di contare le mattonelle non i passi quella strada tipo con cui i mattoni fatti grandi non so spiegarvi oppure gli scalini hai mai fatto la pipì nel bosco sì hai mai fatto la cacca nel bosco no mai cioè che schifo comunque ti sei mai messa a ballare anche se non c'era musica sì penso che sia una cosa che comunque la fanno un sacco di persone mastichi le penne e le matite sì le mastico però adesso di meno con quante persone hai dormito questa settimana questa settimana con non zero cioè solo io nel mio letto però domenica sabato e domenica ho dormito con il mio ragazzo perché è venuto a casa mia abbiamo dormito insieme poi quanto è grande il tuo letto c'è il mio letto è un letto singolo quindi non è molto grande è soltanto per me qual è la canzone della settimana mi piacciono allora in questa settimana mi sto ascoltando mi sto ascoltando italiano proprio allora in questa settimana sto ascoltando molto le canzoni di Queen e anche una di Alex Britti che adesso non mi ricordo comunque è molto bella mi sembra che l'ha portata a San Remo di a San Remo se non sbaglio poi va bene se i ragazzi indossano il rosa allora non accreditemi però dipende perché a me i ragazzi vestiti rosa non mi piacciono nel senso secondo me il rosa non mi piace come colore se lo indossassi io quindi figuriamoci attosso agli uomini non mi piace proprio come come colore di abito il rosa poi dipende dalle varie sfumature ma attosso agli uomini no non mi piace proprio guardi ancora i cartoni animati no però devo dire che i film a cartone mi piacciono molto qual è il tuo film preferito allora allora non ho un film preferito perché io sono un amante di film cioè c'è un sacco di film mi piacciono un sacco di film quindi non so proprio dire il mio film ideale preferito poi dove nasconderesti un tesoro se ne avessi uno allora se avessi un tesoro lo nasconderei nella mia macchina sì nella mia macchina perché a casa sotto al letto è banale sotto al terreno anche sotto la sabbia pure nell'armadio pure quindi sotto la macchina cioè nella macchina perché nessuno lo dice quindi lo dico io cosa bevi a cena acqua in che cosa immergi chicken nuggets mi piace non lo so forse nella salsa barbecue qual è il tuo cibo preferito allora pizza pizza pasta al pomodoro e pizza margherita questo che film che film guarderesti più e più volte allora mi piace il mondo di cazbi poi mi piace molto anche un film che si chiama il velo dipinto l'ultima persona che è basato o che ti ha basato il mio ragazzo ovviamente sei mai stata una girl scout no anche se quando ero piccola mi ricordo che mio padre voleva che la facessi soltanto che almeno cioè non piace proprio non è proprio per me stare no non fa per me poi seresti mai nudo per una rivista se mi danno un sacco di soldi se mi dissero un sacco di soldi si quando è stata l'ultima volta che hai scritto una lettera a qualcuno un po' penso penso tre no quattro anni fa credo forse lo scrivo lettere da cinquantamila anni sai cambiare l'olio in una macchina no però so come si fa però non l'ho mai fatto mai ricevuto una molta per eccesso di velocità no sei mai rimasto senza benzina no panino preferito allora il mio panino preferito è con pomodoro pomodoro thun oppure soltanto con pomodoro e mozzarella in francia a parigi ho mangiato una baguette con tipo semini neri sopra e dentro c'era mozzarella pomodoro ed era buonissima era una cosa e insalata se non sbaglio era una cosa divina col panino la cosa migliore da mangiare a colazione secondo me il cornetto o la brioche con il cioccolato secondo me è una cosa proprio soltanto che non è che possiamo mangiare ogni giorno brioche o il cioccolato quindi io di solito mangio sempre cappuccino cioè bevo cappuccino con biscotti oppure cappuccino con yogurt no a che ora vai a dormire vado a dormire verso la mezza luna no verso luna solo che non mi addormento subito perché io soffro di come si dice quando uno non riesce a dormire di insonnia ecco madonna oggi proprio l'ignoranza proprio sono una persona se piccolo si abbastanza quando eri un bambino da cosa ti davestivi da halloween da strega e si sempre da strega c'è proprio fantasia viene a me però comunque halloween mi è sempre piaciuto da morire madonna non vedo l'ora che viene mi dispiace che qui l'halloween non lo fanno non lo festeggiano molto bene per esempio in america addobbano è bellissimo invece qua fa proprio schifo sembra veramente la notte dei morti viventi perché proprio le persone non non fanno un cavolo quante lingue sai parlare beh l'italiano è scontato perché la mia lingua comunque è una lingua che so parlare diciamo non eccellentemente però che la so capire la so anche un po' parlare e il francese senza ombra di dubbio l'inglese si lo so parlare però ce lo so lo conosco però non saprei fare un discorso come invece lo so fare in francese hai abbonamenti a riviste no meglio lego o lincoln lox non so cosa siano comunque io dico lego perché si giocavo anche quando ero piccolo sei testardo si da morire chi è meglio leno o letterman allora io non so chi è leno però so chi è letterman quindi per esclusione dico letterman hai mai guardato soppopera si quando ero piccola se non sbaglio però non non mi piacciono molto diciamo dopo un po' annoiano hai paura dell'altezza da morire io proprio mi sento proprio di svenire cioè vado in panico quando soffro tantissimo di altezza di altezze di vertigini ecco canti in macchina si canti sotto la doccia si a volte balli in macchina no anche perché o guido o ballo se ballo faccio un incidente muoio quindi preferisco guidare senza ballare ha mai usato una pistola direi proprio di no l'ultima volta che hai che un fotografo ti ha fatto un ritratto un ritratto forse una foto comunque l'ultima volta secondo me risale ai tempi della comunione proprio quando tenevo tipo 10 anni pensi che i musical siano ridicoli allora io non penso che i musical siano ridicoli però a me i musical non piacciono proprio mi snervano mi fanno nervosire proprio non so mi fanno proprio salire nervoso non lo so perché il natale è stressante ah no secondo me il natale è una festa meravigliosa e passato con le persone giuste con l'atmosfera giusta è una cosa eccezionale secondo me è la cosa più bella che esiste hai mangiato un pierogi i pierogi sarebbero dei ravioli polacchi comunque no però le assaggerai molto volentieri torta di frutta preferita allora torta di frutta preferita mi piace la crostata quella lì con la frutta sopra se no mi piace sì quella mi piace anche perché penso solo quella c'è di torta proprio c'è quella crostata con la frutta un classico lavoro che volevi fare da piccolo volevo volevo guardate ho riempito il pastoncino di rossetto comunque che volevo fare da piccola volevo fare la veterinaria e la farmacista proprio cose proprio volevo aiutare qualcuno diciamo era molto altruista gridi e fantasmi gridi e fantasmi sì hai mai avuto la sensazione di déjà vu sempre c'è una cosa che mi accade spessissimo mi sento strana ogni volta che accade non lo so prendi vitamine giornalmente no indossi le pantofole sì le pantofole di Betty Boop tengo adesso indossi un accappatoio no quando faccio la doccia di solito metto l'asciugamano l'accappatoio mi dà fastidio cosa indossi per andare a letto pigiama ovviamente primo concerto non ho mai visto un concerto non sono mai andata ad un concerto carfur o bennet hocian anzi hocian si dice no hocian nike o adidas adidas tutta la vita patatine o fonsis dipende i fonsis sono buonissimi però anche le patatine dipende dipende quali noccioline o si mi dici la sole forse si mi dici la sole perché le noccioline mi disgustano mai sentito parlare del gruppo tre bian no ce la sbaglio forse si nei libri di francese a me hai preso lezioni di ballo si che lavoro vuoi che faccia la tua e il tuo futuro coniuge io vorrei non lo so io ho il mio ragazzo cioè il mio fidanzato fa il geometra e quindi lui già lavora come geometra quindi se sai arricciare la lingua non lo so se si arriccia così un po' non lo so hai mai vinto una gara di spelling no e mi pianto perché eri felice si si ho pianto che ero felice in Francia a Parigi è stato bellissimo poi magari ve lo spiego in un altro video faccio un visperi in vlog dove parlo un po' di Parigi possiedi dei dischi si possiedi un giradischi no bruci incenso regolarmente no però mi piace ma è stata innamorata si e lo sono tuttora chi vorresti vedere in concerto basco si basco qual è stato l'ultimo concerto che hai visto non 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 l'ho mai visto tè caldo tè fritto tutte e due però più tè fritto tè o caffè tè zucchero o biscotti alla cannella biscotti alla cannella tutta la vita duro la cannella sai nuotare bene diciamo abbastanza sai trattenere il respiro senza tappare il naso no anche perché io soffro di asma e quindi già faccio fatica a respirare quando mi mi sforzo ecco quindi no sei paziente no dj o band ad un matrimonio band dj mi danno molto fastidio mai vinto un concorso no però ho partecipato ad un concorso di a una sfilata delle sfilate hai mai fatto un intervento di chirurgia plastica no quali sono le rive migliori nere o verdi verdi sai fare a maia o un cinetto no stanza migliore per un camino camera da pranzo camera da letto no perché ho paura che si incendia al letto non lo so ho paura vuoi sposarti certo qual è stata la tua cotta alle superiori io non ho mai non ho mai avuto una cotta non cioè ci stavano pure ragazzi che mi piacevano però non sono stata mai una ragazza che prende delle cotte piangi e fai capricci fino a quando non ottieni quello che vuoi allora io no penso di essere abbastanza grande quindi non piango e ne faccio capricci però diciamo che quando voglio una cosa faccio di tutto per averla hai figli no vuoi bambini certo qual è il tuo colore preferito viola e blu ti manca qualcuno in questo momento allora si mi manca il mio coniglio forse già ve ne ho parlato in un altro video poi magari vi parlerò anche di questo comunque mi manca il mio coniglietto che è morto da pochi mesi è stato lo vivo da un sacco di anni e sono finite le domande quindi spero comunque di avervi rilassato e io vi mando un grosso grosso bacio ci vediamo al prossimo video ciao ciao